Padre Thomas Pazza Yampali aveva 65 anni, era il rettore del Pontificio Seminario Maggiore di Bangalore in India. Era un uomo mite e amato da tutti, ma un gruppo di balordi, forse tre, nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile non ha esitato a scagliare più di una volta un mattone contro la testa di quell'uomo buono e colto che viveva nel seminario di Bangalore da circa 30 anni ed era al suo secondo mandato come rettore di 253 alunni. La poca gente nel seminario durante le vacanze pasquali e i rumori della pioggia abbattente hanno favorito i movimenti dei criminali che, forse, ma è ancora da stabilire, cercavano proprio padre Thomas per vendicarsi delle sue denunce contro persone che negli ultimi tempi avevano tentato di tagliare alberi all'interno del seminario per rubare il prezioso legno di sandalo, alberi il cui taglio deve essere autorizzato dal governo locale. Il corpo del sacerdote con il volto sfigurato è stato trovato nella mensa del seminario ma l'uomo è stato ucciso altrove. Purtroppo la pioggia ha rimosso molte tracce della dinamica della colluttazione. L'ufficio del rettore inoltre è stato trovato in disordine. Mancano dei documenti ma sono rimasti lì l'iPad ed altri oggetti che appartenevano a padre Thomas. Forse potrebbero essere re dei pistaggi. Negli ultimi anni, e non solo in India, sacerdoti e suore sono stati presi di mira non solo per la loro fede ma soprattutto per la violenza scatenata dalla miseria e l'omicidio di padre Thomas potrebbe essere una conseguenza della povertà. Comunque, come ha denunciato l'arciviscovo di Bangalore, Bernard Moras, è un omicidio brutale, terribile e senza senso.